C'era una volta un castello illuminato, una tavola imbandita e una gran festa. Rivivi ogni sera questa magica atmosfera. Viene all'Osteria del castello, un locale caratteristico con ampio giardino dal quale si gode una splendida vista panoramica. Nei vasti accoglienti ambienti potrai gustare ricchi menu a base di carne e pesce a scelta, ballare in compagnia dell'orchestra e intrattenerti in piacevole compagnia assaporando ottime pizze o le nostre numerose specialità. Il ristorante è particolarmente indicato per pranzi di nozze, pranzi di lavoro, compleanni e banchetti per commitive numerose. Grazie a tutti.